Ad incontri, individuali, corsi, lavori con la mente, su vari livelli, in che modo un lavoro sull'inconscio può aiutare a migliorare la mia vita? E' importante, il lavoro sull'inconscio è fondamentale perché purtroppo oggi abbiamo una serie di informazioni quindi le persone tendono già a sapere più o meno a grandi linee qual è l'ostacolo importante nella loro vita qual è la componente caratteriale che andrebbe smussata, arrotondata, un po' limata quali sono le sfumature che deve aggiungere, quelle che deve togliere le sue componenti caratteriali quindi le cose le sappiamo, è chiaro che le sappiamo, che vorremmo farle, non ci riusciamo, è difficile farle perché? Perché un conto è sapere una cosa a livello conscio e un conto è saperla a livello inconscio quando io a livello inconscio attuo il cambiamento allora nella mia vita sarò già diverso invece finché io le cose le so e non riesco a metterle in campo significa che il mio sapere a livello conscio e quindi nella vita poi comunque mi trovo lì davanti a quella problematica, a quell'ostacolo e ancora non riesco a cambiare invece il lavoro sull'inconscio significa che io tramite l'aiuto di altre persone tramite opportuni esercizi a casa riesco a fare un cambiamento interiore il cambiamento interiore che non è difficile, che è qualcosa che si può con un minimo impegno attuare mi permette domani, subito domani, di essere diverso davanti a quel determinato e specifico stracolo grazie 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 grazie